salve a tutti benvenuti in questo nuovo video della pantera dello svapo oggi vi porto alla recensione dei liquidi di angolo della guancia o meglio uno dei cinque perché adesso registro un video e vi porto un liquido poi successivamente vi porto il restante dei liquidi allora i liquidi in questione sono cinque ed è sono il sirian che è un distillato cigarette che è un altro distillato cookie che è un altro distillato quindi sono tre distillati e poi abbiamo il virginia plus questo qua che è un microfiltrato e il mandingo che è un macerato iniziamo con il primo che è il sirian questo qua che è un distillato allora il sirian è un latachia che viene lavorato con della fumigazione con delle essenze e adesso vado ad odorarlo ma vi dico già da subito che non si sente questo perché quando un tabacco è buono non rilascia odori quindi e adesso lo vado a provare sul vampire e poi su una pod adesso lo provo e vi dirò la mia che dire ragazzi questo è un liquido questo fa paura fa paura nel bene perché io lo utilizzo molto nel vampire perché mi piace molto ricco c'è si sente comunque la fumigazione riesco a sentire anche le essenze è molto ricco c'è per gli amanti del dei tabacchi e gli amanti della tachia o la tachia ragazzi questo è davvero è davvero perché veramente buono per quando riguarda i sistemi contestino usa e jetta pod o pod modo come li volete chiamare io lo sto usando qui dentro ho provato in altri sistemi contestino usa e jet in altre pod e ragazzi dice la sua anche qui dice la sua anche qui perché mi sembra di fumare una sigaretta questo perché qui si vanno a spegnere quelle note delle essenze la fumigazione che riesco a sentire sul sistema rigenerabile qui è molto più leggera e si sente il tabacco cioè ragazzi per chi vuole smettere di fumare fa bingo si compra una sigarettina semplice non dico per forza questo ce ne sono tante e si compra questo liquido e fa il bingo fa il bingo ragazzi questo è un 10 pieno perché veramente buono io lo preferisco sul rigenerabile perché io lo svapo di continuo sul vampire perché qui ragazzi c'è è più completo quindi ragazzi che dire io ve lo consiglio provato le fatemi sapere nei commenti poi farò registrerò altri video e vi porterò il restante dei liquidi io vi saluto con la svapata non c'è altro da dire quando un prodotto è buono è buono basta ciao a tutti